Ueh? Che bel tu sei eh? Ha visto? T'ha visto? Eh? 58 per molti ma non per tutti. Guarda. Eh? Te viste? Te viste? Che bel tu sei. Adesso vedi che va bene. Perfetto. Qui è l'ultimo filo giù. Tac, 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 perché i bassorgerano bassi e i bassorgerano troppo alti. Dici, you remember? Si. Eh. don't forget to subscribe to my youtube channel ciao bye bye after walang bayad is free i give you 10 euro i give you 10 euro really? sure? 10 euro ciao